Il municipale è più vicino ai cittadini. È partito il servizio del centro di ascolti itinerante. Un camper e quattro agenti pronti a raccogliere segnalazioni e suggerimenti. Lo scopo principale è il concetto polizia di prossimità, vigile di quartiere. Andare incontro alle problematiche dei cittadini, nell'ambito di possibile risolvere nell'immediatezza. Poi anche un altro obiettivo che intendiamo raggiungere è quello di evitare che ci siano i venditori abusivi. A San Giusto il debutto, con tante segnalazioni da parte dei cittadini. Tutte schedate e poi inoltrate agli uffici competenti. I venerdì di solito non puliscano quasi mai anche gli spazzini. Lasciano e se vengono a pulire puliscano da quella maniera. Tutti i sorti ogni anno, perché c'è troppa robaccia. I cassonetti c'è là degli indumenti dell'usato, perché qui ogni po' hanno ampioni rotti, si giocano a calcio d'estate, c'è gli anziani che arriva pallonate e si vengono bambini anche. Capita anche che i problemi siano risolti in tempo reale. In via delle Gardegne da mesi sostavano due furgoni. I controlli hanno evidenziato che erano privi di assicurazione. Immediata la rimozione. Il servizio di ascolto sarà presente il lunedì alternativamente al mercato di Viale Galilei e a quello del soccorso. Il mercoledì dalle 16 alle 17.30 ai giardini di Via Carlo Marx. Il giovedì mattina dalle 10 alle 12 in Piazza San Marco, Piazza Europa e Viale Piave. E venerdì mattina al mercato di San Giusto. Grazie a tutti.